L'agenzia delle entrate Ex Equitalia ha inviato circa 7.000 cartelle esattoriali riferite al 2009 e al 2010 a società artigiani, professionisti ma anche a semplici cittadini. Si chiede con questo il pagamento per intero anziché con abbattimento del 60% come previsto dalla legge di somme dovute all'erario. Una somma che si aggira attorno agli 87 milioni. È evidente che qualcuno a Roma ha pianificato un disegno per la morte dell'Aquila e del suo tessuto produttivo. A parlare è il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e proprio a ridosso della manifestazione del 16 aprile, per dire no alla notifica delle cartelle esattoriali milionarie con pagamenti entro 30 giorni a circa 350 tra imprese e partite IVA del catere sismico. Secondo il sindaco il salasso in arrivo è di proporzioni ancora più grandi e devastanti perché riguarda un numero di contribuenti maggiori non solo aziende ma anche piccoli, medi professionisti e cittadini. Proprio mentre si sta lottando contro un'ingiustizia come la richiesta di restituzione arrivata a 350 imprese di tasse e contributi perché l'Unione Europea li ritiene un aiuto di Stato, dice il sindaco. Da Roma, guarda caso, dopo le elezioni politiche vengono inviate migliaia di cartelli a cittadini e imprese. Mi chiedo quale sia la ragione di un simile accanimento contro una popolazione che ha già sofferto e continua a soffrire gli effetti di un terremoto che qualche solerte burocrata intende amplificare. Tutto questo, dicevamo, mentre la città si prepara a vivere la grande mobilitazione nel centro storico fissata per il prossimo 16 aprile, imprenditori pronti a marciare su Roma e in città ci si radunerà per chiedere un decreto correttivo ad un provvedimento che davvero rischia di vanificare tutti gli sforzi della città per rimettersi a stento in piedi.